Ora dico io, avete presente quando gli smartphone sono tutti uguali, no? Stanno annoiando, le aziende non innovano più, quindi non vi tirano più fuori roba interessante, roba carina, eccetera, eccetera. C'è però un'azienda, secondo me, che ancora ha il coraggio di continuare, e di continuare bene, su una tipologia di smartphone veramente differente e che ragazzi, davvero, se li capite, beh, sono davvero qualcosa di diverso, credetemi. Ho aspettato un pochino, me lo sono voluto godere, l'ho voluto testare, provare, soprattutto ho fatto lo switch. Samsung Galaxy Z Fold 3, che per me è qualcosa di davvero, ragazzi, impressionante. Switch su cosa? Su questo, sul flip. Quindi dopo l'esperienza Fold, passare allo Z Flip, che cosa cambia? Fondamentalmente, ragazzi, cambia un mondo. Cambia un mondo, cambiano le idee, cambia anche come devi utilizzare lo smartphone, come è pensato questo smartphone proprio per voi utenti. Come sempre, mettetevi comodi, lasciate un like qua sotto al video, commentatelo, iscrivetevi al canale YouTube. Io ringrazio Jonathan di Tech Ticino. Molti di voi, dopo il video su iPhone 12, mi hanno detto, Guerze, ma è reale, cioè esiste, è affidabile, perché ha dei prezzi veramente buon, ma sì, ragazzi. Infatti in descrizione trovate anche il link all'acquisto per questo Z Flip, se lo volete acquistare. Cioè l'ho utilizzato io, l'ho sballato io, quindi è pressoché perfetto. Mi raccomando, come sempre, ragazzi, io vi attendo nei box dei commenti e buona recensione, un po' particolare come di consueto. Cioè l'ho utilizzato io, come sempre, ragazzi. Allora, lo sapete, ho utilizzato tanto il Samsung Galaxy Z Flip come mio telefono principale con lo Snap 865. Questo nuovo telefono, ragazzi, è qualcosa di diverso. Costruito in maniera diversa, ancora più solido, ancora più resistente, ancora più robusto. Se avete titubanza, se avete paura, non lo so, di rompere il telefono a forza di aprirlo e chiuderlo, levatevelo dalla testa, perché questo è uno smartphone costruito bene. Ieri l'ho fatto vedere a Federico, un amico che gioca a calcetto con me, segue il canale, mi ha detto, ma cazzo, ma quanto è duro veramente aprirlo e chiuderlo questo smartphone? Non pensate male, mi raccomando. Perché davvero, ragazzi, guardate, è costruito divinamente da parte di Samsung. Faccio fatica addirittura, ecco, ad aprirlo. E poi guardate, secondo me, la particolarità che non hanno gli altri, cioè, guardate quanto può rimanere aperto lo smartphone. Cosa che invece, l'anno scorso non era così. O lo aprivi o lo chiudevi, non c'erano via di mezzo, invece quest'anno veramente c'è stato un lavoro sulle cegniere impressionante. Ma non solo, è impermeabile. Cioè, quest'anno Samsung ha reso impermeabile sia il flip che il fold. Qualcosa di pazzesco, qualcosa che veramente non c'era. Non c'era prima e loro ce l'hanno fatta. Ovviamente è un top di gamma, ma è un top di gamma diverso. Non pensate di comprare questo telefono e di avere il top per quanto riguarda la fotocamera, il top per quanto riguarda la videocamera. No, questo è il top dei pieghevoli portatili. Stop. La fotocamera non è quella di S21 Ultra. Non è completa come quella di S21 Ultra. Non lo potrà mai essere come non lo potrà mai essere quella del Fold 3. Altro dettaglio, non pensate di comprare questo smartphone e di avere il top per quanto riguarda la batteria. Non è assolutamente così. Adesso poi vi racconterò tutto. Vedete anche dove è cambiato, particolarmente quest'anno il flippettino. È cambiato nel pannello, è cambiato nel display. Doppio tap, vedete, possiamo interagire con questo pannello, possiamo interagire con il display. E poi c'è una figata, secondo me. Guardate, doppio clic. Fotografia. Quindi possiamo farci le foto, potete farvi selfie senza problemi. C'è anche la modalità, quella che potete appoggiare il telefono e tramite il display inquadrarvi. Non c'è nessun tipo di problema. Ma la figata è anche questa. Switch video. Quindi io adesso, andando a schiacciare il tasso volume su. Eccoci qua. È partita la registrazione video. Quindi io posso fare un video. C'è anche lo switch delle camere. Quindi camera principale o grandangolare. L'unico neo, ragazzi, secondo me negativo, è che il video viene registrato in formato quadrato. Non viene in 16 noni e questa è la cosa che più mi manca di questo flip. Perché veramente io potevo vloggare senza nessun tipo di problema. 4K a 30 fps, 4K a 60 fps. E potevo avere, ovviamente, un'inquadratura in 16 noni che è il formato poi che andiamo a mettere su YouTube. Peccato, veramente. Si poteva fare qualcosina di più. Vado adesso a stoppare la registrazione. Eccola qua. Viene salvata all'interno della memoria. Vi ricordo che le memorie non sono espandibili. Poi, tranquillamente, con un clic, si torna al display principale. Che, come vi dicevo, non è un display full. Quindi non si può interagire in maniera full con le notifiche. Quindi non si può rispondere ai messaggi con un testo. Quindi non potete assolutamente tirar fuori la tastiera come avviene sul fold. E' tutta un'altra cosa, ragazzi. Qui si usa il telefono in questa maniera. Comunque, è personalizzabile. Vedete, posso cancellare le notifiche. Posso riprodurre la mia musica. Abbiamo il metro. Abbiamo tutti i widget che sono settabili all'interno del menu contestuale. Vi parlavo un po' dell'autonomia, no? 3.300 mAh. Hanno inserito due batterie all'interno del flip. Quindi abbiamo una mezza batteria nella parte superiore, una mezza batteria nella parte inferiore. L'autonomia, ragazzi, dura circa quattro orette scarse su questo Z Flip. Vi dicevo, non è un battery phone. Non potrà mai esserlo. Poi dipende molto da come utilizzate il telefono. Se è tanto a display aperto, tanto a display chiuso. Scaldicchia un po' nella parte in alto. Secondo me, ecco, il fold ha un pizzichino in più di autonomia, pur avendo molta più risoluzione, pur avendo molto più display. Questo è un plus che ha Samsung su quel telefono, perché ha sempre lo Snap 888. Per quanto riguarda ricezione e parte telefonica, è la classica in stile Samsung. Quindi, secondo me, al pari di iPhone, le migliori sotto questo profilo sono, ad oggi, Motorola e Huawei. Però loro hanno altri problemi, ma lasciamo perdere. Detto questo, l'interlocutore ci ha sentito sempre bene durante la telefonata. Anche io non ho avuto problemi. Altro plus che non c'era sul precedente flip, l'audio stereo. Quindi, primo plus, il display esterno, che è migliorato. Secondo plus, l'impermeabilità. Terzo plus, i materiali, molto ma molto più resistenti. Quarto plus, l'audio stereo. E poi c'è un quinto plus, che adesso vi faccio vedere. Altro plus, e questo è difficilissimo da inquadrare, perché vedete, comunque sia abbiamo un display che riflette anche la pellicola premontata, che è migliorata come oleofubicità, come proprio, vedete il dito, come adesso va molto meglio. Rispetto alla precedente, è che in queste condizioni di luce faccio un po' fatica. Comunque, l'altro plus, andiamo subito nelle impostazioni, almeno ve lo faccio vedere. Devono ancora arrivare le patch di settembre. Questa è quasi una novità, visto che sta finendo settembre, ma anche il mio Fold non si è aggiornato. Novità, perché Samsung oramai aggiorna praticamente mese su mese. Allora, entrando nello schermo, vedete la principale novità. Oltre ad avere Samsung Labs, quindi c'è la possibilità di avere le app a multischermo, app a schermo intero e quant'altro, che vi ho già spiegato tutto all'interno della recensione del Galaxy Fold 3, abbiamo la possibilità di avere un refresh rate adattivo. Quindi, il precedente flip si fermava a 60 Hz, quello nuovo arriva fino a 120 Hz ed è adattivo. Quindi è lui che in automatico decide se andare a 120 Hz oppure risparmiare qualcosina all'autobatteria, essendo appunto un display adattivo. Questa è un'altra funzionalità che non c'era nel precedente flip. Entrando nella fotocamera, ricordatevi che i sensori sono sempre da 12 megapixel, non abbiamo uno zoom, ma potete vedere abbiamo la grande angolare, nonché la 1x, poi si può andare a zoomare, ma è tutto software, quindi mi fermerai qua. C'è la possibilità, lo vedete, ecco la figata. Ecco dove Samsung sicuramente rispetto agli altri studia tutto il suo software. Possibilità, vedete, di inquadrarvi, di fare un selfie, di scattarlo come volete, ci sono le air gesture, c'è tutto. C'è la possibilità di cambiare in questa modalità, vedete, adesso ho spostato sotto la mia inquadratura, come c'è la possibilità, premendo questo tasto in alto a destra, di avere l'anteprima sullo schermo. Ora è un po' difficile perché sto anche registrando, comunque vedete, nella parte posteriore potete avere un'anteprima e potete farvi una foto in maniera ottimale con la grande angolare e poi, ovviamente, la qualità è quella della fotocamera principale, del sensore principale, quindi comunque una buona qualità. Adesso, ad ogni modo, vi faccio vedere gli scatti eseguiti con questo nuovo Z Flip. Z Flip Andiamo di prova video, 4K, 30fps, ovviamente Z Flip che sta registrando, senza microfoni esterni, quindi potete anche sentire l'audio del telefono. Provo anche di stabilizzazione, sto scendendo le scale, quindi meglio di così, ragazzi. Ole, ci siamo. Vediamo un po' di controluce. Da qui sembra non male. Per quanto riguarda il prezzo, al Day One costava sotto i 1000€ contro i 1500€ di anno scorso. È uno smartphone totalmente diverso, rivisso, stramigliorato in tutto e costa addirittura 500€ o meno. Ora, non vi voglio dire che, ragazzi, è lo smartphone perfetto, lo smartphone perfetto non esiste. Vi dico che è uno smartphone differente, vi dico che comunque è un telefono da prendere in forte considerazione e vi dico che non ha niente da invidiare a nessuno. Snap 888, fluidissimo, 120Hz. Come vi dicevo, diverso. Ecco, se state cercando, ve lo potete permettere, e volete qualcosa di diverso perché i telefoni vi stanno stancando, questo potrebbe veramente fare al caso vostro. E ricordatevi sempre che durante l'anno Samsung fa delle ottime promozioni proprio per voi utenti e non escludo che arriverà qualcosa anche sui pieghevoli, verso Natale, Black Friday. Quindi, ragazzi, sintonizzatevi assolutamente sui nostri canali, che trovate sempre qua sotto in descrizione perché, secondo me, se cala un altro pochino, questo non è che è un Best Buy. Di più, perché, vi ripeto, differente, costruito benissimo, impermeabile, ha tante funzioni e poi è figo. Cioè, c'è poco da fare, è figo. Sia per il pubblico maschile, sia per il pubblico femminile, viste anche le colorazioni molto belle che Samsung ha presentato quest'anno. bicolore, secondo me, è davvero fantastico. Però voglio aspettare la vostra opinione, come sempre, qua sotto, nel box dei commenti e anche per quest'oggi da Boonguerza è tutto. E ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao a tutti!